Sospese tutte le attività ambulatorie non urgenti e quanto disposto dal CREA al Comitato Regionale Emergenza Urgenza, le cui indicazioni saranno messe in pratica tramite un'ordinanza del Governatore Marco Marsilio. Fino al perdurare dell'emergenza coronavirus saranno garantite solo le attività prioritarie, le prestazioni oncoematologiche, radioterapiche e chemioterapiche, quelle dialitiche, i controlli post-operazione, la terapia del dolore, le attività pre-ospedalizzazione di classe A, i servizi pubblici per quanto riguarda la salute mentale e quelli sulle dipendenze. Sono consentite le donazioni di sangue mentre si dispone di limitare i prelievi non indispensabili. Sappiamo che si creeranno disagi all'utenza, ha detto l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, ma è nostro dovere mettere in campo ogni azione utile a contenere il contagio. Mi auguro, ha concluso l'assessore, che tutti comprendano la situazione di emergenza e la necessità di adottare misure straordinarie. Ogni ASL della nostra regione dovrà provvedere all'attivazione di nuovi posti letto di terapia intensiva e al potenziamento dei posti letto delle unità operative di malattie infettive e pneumologia, ovvero quelle che si occupano di problematiche respiratorie. E questo sia ricorrendo all'ampliamento dei reparti, sia riconvertendo le degenze ordinarie. Da oggi anche le cliniche private sono chiamate a far la loro parte. Dovranno indicare i posti letto dotati di respirazione assistita e le aree dove i pazienti positivi al Covid-19 possano essere posti in isolamento. In ogni caso, sottolineano i vertici della sanità regionale, queste sono misure preventive e precauzionali affinché l'Abruzzo non si trovi impreparato in situazioni che, si spera, non si verifichino mai.